si è fatta tu queste domande prima di tantissimo e però siamo giunti a questa conclusione con tommy ci siamo proprio detti senti allora un figlio noi sappiamo che lo vogliamo sicuramente non sappiamo quando ma lo vogliamo il momento giusto non ci sarà mai perché noi facciamo questo lavoro lo faremo per sempre e non ci sarà mai un momento in cui dice aspetta adesso c'è un anno di buco ci infilo un figlio certo non si fa così non esiste quindi abbiamo detto quello che succede quello che succede succede dobbiamo farci in quattro noi per rimanere a galla in qualche modo un po abbiamo accusato il colpo entrambi perché per forza di cose poi quando hai il bimbo certo non puoi dire di sì a tutto e ho dovuto fare delle scelte anche importanti